Il Movimento Artigiani e Commercianti Liberi ha deciso di venire a Sant'Antioco perché ha un'infrastruttura che sarebbe il porto, che potrebbe essere l'imbocco dell'economia del sulciglesiente, un'infrastruttura che la Regione è ora che prenda provvedimenti e decida di autorizzare la trasformazione. I sogni devono diventare realtà, visto e considerato che noi siamo la provincia più povera d'Italia è ora che prendano provvedimenti immediati. E con questo concludo, grazie.